Sto gioco si chiama Ma indovina dov'è il pupazzetto? Noi in Italia stiamo installando il contatore di seconda generazione, in Francia hanno appena iniziato a installare i contatori di prima generazione. L'intelligenza delle piante La teoria del Big Bang Chi di voi si ricorda Conoscenze di matematica La teoria del Big Bang La teoria del Big Bang